Con indosso la maglia dell'Aquila Rugby in segno di solidarietà per la grave crisi societaria che ha impedito l'inizio del campionato della pallavale, Mister Battistini incassa invece una vittoria netta contro l'Agnonese tra le muramiche. I brivi in brividi arrivano per la doppia occasione dell'Aquila tra il decimo e il dodicesimo, prima con Valenti e poi con Padovani. Il colpo di testa di quest'ultimo solo davanti alla porta avversaria va fuori di pochissimo. Al diciannovesimo Steri serve una palla ben calibrata a Padovani che aggancia e colpisce in rovesciata ma la sfera finisce ancora fuori. Al ventinovesimo è Valenti autore di un pericoloso rasoterra ma all'estremo dell'Agnone Fagliella è pronto e para. Steri al quarantesimo cerca il vantaggio con un tiro dalla distanza che finisce però al lato. Il risultato è di 0 a 0 quando l'arbitro fischia la fine del primo tempo. A rientro dagli spogliatoi un brivido arriva all'undicesimo per uno scambio tra Sieno e Valenti che mette in pericolo la porta dell'Agnonese ma la palla finisce al lato di poco. Al tredicesimo una diotta occasione per Valenti autore di un bellissimo tiro dalla distanza viene parata da Fagliella. La palla però rimane in area e nel tentativo di impadronirsi nel difensore molisano fa fallo su Boldrini. L'arbitro assegna il calcio di rigore per l'Aquila. Dal dischetto lo stesso Boldrini calcia e porta i padroni di casa in vantaggio. L'Aquila 1 a Agnonese 0. I rosso-blu dominano il campo e al ventitreesimo arriva il raddoppio con Pupeschi. Punizione di Valenti che mette in mezzo. Pupeschi pronto con il suo sinistro accompagna la palla in rete nell'angolo basso a sinistra. L'Aquila 2 a Agnonese 0. Al trentaquattresimo però un colpo di reni per l'Agnonese che con Pajec tenta il tiro che finisce al lato di poco. Al trentasettesimo risponde l'Aquila calcio su palla messa fuori dalla difesa ospite con Valenti che calcia ma non c'entra lo specchio della porta. E ancora l'Agnonese al quarantaduesimo con Niang il quale calcia a rasoterra per beffare Farroni ma la palla esce. Nel recupero al quarantaseiesimo l'Agnonese accorcia le distanze con Santoro ma di lì a due minuti il triplice fischio dell'arbitro chiuderà la partita con la vittoria dell'Aquila calcio.